Ancora incerto l'orario di arrivo a Napoli della Salma di Ciro Esposito, il giovane supporter del Napoli morto al Policlinico Gemelli di Roma dopo oltre un mese e mezzo di agonia a seguito delle ferite riportate dal colpo di pistola, sparato gli dall'ultrasse romanista Danilo De Santis prima della finale di Coppa Italia-Napoli-Fiorentina. Il rientro era previsto per questo pomeriggio al più tardi in serata, ma potrebbe slittare alle prime ore della mattina di domani a causa del prolungarsi delle pratiche per l'esame autoptico. Da quanto emerge il proiettile fatale sarebbe passato in mezzo alle costole del ragazzo. La Procura di Roma intanto starebbe per acquisire il file audio in cui Ciro avrebbe detto, tra il 20 e il 30 maggio e quindi durante l'adegenza, di aver riconosciuto De Santis quale autore del crimine, confermando anche la presenza di altre persone coinvolte. In queste ore continuano gli appelli della famiglia Esposito a non compiere violenze in nome della morte di Ciro. La camera ardente sarà allestita presso l'auditorium di Scampia e i funerali celebrati alle 16.30 di domani nella piazza Grandi Eventi del quartiere.